ciao 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 mad basic ciao a tutti gli altri ragazzi in chat john chong john chong per citare lo streamer che va in onda dopo più tardi allora siamo qui siamo qui per fare i premi e vi dico i regolamenti prima di perché così vi dico il regolamento prima di partire sono tutti i giochi che ho giocato nel 2023 ma non che per non per forza sono usciti nel 2023 quindi mad basic avrà già intuito quale sarà uno dei giochi nella top 10 metto le cubi per sentire se la musica si sente e quindi immagino immagino che tu non aspettassi altro in fatto si vede di merda la chat andiamo un po se si può dare box ed vai si vede un po meglio così ok si 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 vede meglio ok ciao tiz ciao tiz allora cominciamo ciao rox benvenuto benvenuto anche a te allora facciamo così i giochi sono più che altro sono dieci giochi sono top 10 e inframmezzati ci sono altri premi tra cui anche miglior ciofeca tutte queste cose qui un po cringine quindi sono anche i giochi peggiori dell'anno non i migliori e ci sono un po siccome erano più di dieci giochi che mi sono piaciuti in realtà ho fatto anche dei premi così un po paracuri per infilare più roba possibile e cominciamo si comincia subito con dei premi speciali perché è da lì che si inizia e no meglio spettatore di twitch no no sono solo solo videogiochi né film né serie né libri né niente si parla solo di videogiochi oggi perché perché sono più belle tutto il resto allora partiamo subito col primo eh sì troppo telefonato allora partiamo subito col primo l'alzo l'alzo tizze vai va bene così ora c'è sword of mana grateful memories di kanji ito allora cominciamo subito col primo gioco ok va bene no l'avevo messa perché il computer è un po rumoroso in questi giorni quindi per coprire un po' il rumore del computer host e giapponese sono i migliori eh diciamoci la verità allora partiamo subito con un premio speciale che si chiama il troppo stroppia i fan rush che non è un bruttissimo gioco però a me non è piaciuto perché nonostante il combattimento funzioni e la grafica e l'art style di per sé funzioni la musica funzioni funziona quasi tutto però c'ha quei momenti che io non so spiegarmi perché siano stati messi all'interno di questo gioco ovvero quei momenti platform e di puzzle che vanno a rovinare tutta l'armonia del gioco è veramente il troppo stroppe che è un po' un argomento su cui ritorneremo più tardi per parlare anche di altri videogiochi ovvero quella tendenza dei videogiochi moderni tripla o no a doverci mettere per forza tutto tutto per allungare il brodo allungare il contenuto che sembra essere un po' quello che è sempre più richiesto dal pubblico no ovvero dalle masse e qui secondo me il problema di i4rush che me l'ha fatto dropparvi che me l'ha veramente rotto e coglioni è il platform anche perché io sono abituato a un platforming molto molto curato e molto bello appunto quello dei titoli nintendo che con quelli sono cresciuti e tutto ciò che non è eccellenza da quel punto di vista lì mi cade veramente sui coglioni scusate infatti per le storie sono molto più tipo ds intendi dark souls ma dark souls platform che cazzo c'ha dark souls di platform o intendi die stranding non lo so comunque sì questi momenti platform non ha senso perché ce l'hanno messo mettete combattimento che tratta funziona benissimo che è tutto ritmato al ritmo con la musica è stupenda anche del gioco stesso e quindi non ci sono certe cose che non capisco a volte all'interno del del mondo dei videogiochi andiamo col secondo premio ok ok si stava meglio quando si stava peggio perché ho voluto premiare assassin's creed mirage che tra l'altro è un gioco che c'è subito la prima bugia del giorno questo gioco sto giocando in questi giorni quindi siamo già nel 2024 ma il 2023 inizia da domani il 2024 per me inizia da domani facciamo finta così perché allora assassin's creed io li ho giocati tutti ho giocato odyssey origins e anche valhalla però gli ultimi tre veramente mi erano veramente stati troppo sui coglioni perché nonostante tutto syndicate unity black flag eppure il terzo nonostante fossero giochi bruttini non erano mai a livello dei primi due assassin's creed comunque se mi piaceva la loro formula perché un tipo di stealth così con il parkour tutto agitato sullo stealth tutto sommato è abbastanza piacevole da giocarlo è lo stesso assassin's creed mirage da questo premio si sta meglio quando si sta peggio perché ritorna un po alla vecchia formula nonostante non funzioni quasi niente di tutto il resto la storia morba le palle infatti schifo tutto non so nemmeno come si chiama il personaggio principale non so niente non so chi sono i personaggi non so chi devo ammazzare non so cosa sta succedendo non so nulla perché mi ha rotto e coglioni subito la trama infatti manda avanti tutto con BB però la formula dei vecchi assassin's creed ovvero il parkour e lo stealth il fatto che non ci siano i livelli quindi i nemici muoiono con un colpo si li va dietro con la lama e lo stealth a differenza dei tre capitoli rpg open war action e secondo me funziona meglio ed è molto più divertente e nonostante tutto continua a giocarci perché tiene incollati come per dire che non occorre tornando sempre via al discorso dei fire action non occorre stravolgere completamente il videogioco benvenuto a satori benvenuto a satori e quindi dicevo ciao cream siamo già al secondo premio allora assassin's creed mirage premiato appunto perché torna alla sua vecchia formula che è quella che preferivo negli assassin's creed e tutto sommato mi sta piaciucchiando cioè non l'ho ancora droppato che per me è un miracolo che sono già quasi sette ore e penso che duri anche poco dura 15 ore e quindi vuol dire che me lo sto godendo e per esempio qui si torna anche al parkour che assassin's creed valala era completamente abolito perché ambientando un gioco nel nord sì certo ambientando il gioco nel nord nella scandinavia la gente vive a Nettuguri nelle capanne come cavolo fai a permettere un come si dice un parkour più decente e più e più bello anche e divertente e dinamico e veloce invece qui ambientato nel nell'impero in un califato non mi ricordo bene qual è per cui devi tenere che sono tutte casini sono le moschee diversi sali scendi poi ti nascondi bene però non funziona tutto il resto non funziona il combattimento non funziona sembra un passo indietro rispetto ai valala i nemici non sembrano non subire nemmeno colpi quindi cioè non è che è tutto perfetto però tutto sommato voglio l'ho voluto premiare perché secondo me il videogioco puro può essere così non deve essere troppo non deve essere action action RPG open world per piacere a tutti per forza e questa formula che funzionerà decisamente meglio secondo me degli ultimi 3 assassin's creed andiamo avanti questo è il gioco migliore remastered un altro premio la migliore remastered che è la vince Metroid Prime questo sono suscite tante remastered bisogna dire la verità che poi non era remastered è un remake perché sono rifatto tutto gli sfondi sono rifatti gli ambienti sono rifatti la grafica completamente rifatta non è una versione HD del vecchio gioco su Gamecube Metroid Prime è la prima volta che lo gioco non l'ho mai giocato su Gamecube anche perché non l'ho avuto c'era un mio amico se andava da lui si giocava a Final Fantasy Crystal Chronicles figurati mi è piaciuto tantissimo è un'atmosfera incredibile e secondo me una cosa importante nei videogiochi è l'atmosfera l'atmosfera rende tutto migliore nei videogiochi il fatto che l'acqua cade la vedi che ti scorre sul caschetto che ti scivola giù sì sì che ti scivola giù sul fucile cioè veramente incredibile questo gioco funziona appunto su Switch come dice Satori è assurdo poi funziona tutto non mi sono mai perso un secondo in questo gioco sai sempre dove devi andare non è difficile anche perché c'è la mira assistita grazie a Dio perché i controller sono completamente impediti a giocare a un FPS che alla fine è un FPS non ti perdi mai se a un certo punto non trovi troppo la strada il gioco ti indica dove andare che secondo me a volte è sbagliato ma in un Metroidvania così forse anche vecchio perché non so di chi anno è ma sicuramente è dell'epoca Gamecube quindi a vent'anni non di più e quindi funziona tutto in questo gioco qui funziona tutto e complimenti anche a chi l'ha fatto perché gira perfettamente su Switch ed è incredibile è incredibile veramente andiamo avanti questo è un altro gioco si chiama il Prime mollo finisco che è un videogioco che in realtà mi sta piacendo molto anche questo è un Metroidvania ma mi sono bloccato perché a differenza di Metroid Prime è più stronzo e non ti indica la strada dove devi andare o la Switch normale a parte che c'è una Switch sia la Switch normale che la Lite però la Lite è della mia ragazza funziona meglio sulla Switch normale OLED e Switch normale non penso che abbiano differenze di hardware a parte lo schermo comunque sia Pseudo Regalia è un Metroidvania che basa tutto molto sul parkour sul movimento sul platforming il movimento in cui il gioco è veramente incredibile i movimenti i salti che devi fare all'interno di questo dungeon enorme che ricorda un po' il castello di Ico perché tutto è interconnesso e in alcune parti non ci può arrivare perché devi vendere determinati poteri che poi sono in realtà sono la sua parte dell'armatura che gli danno questi poteri per raggiungere più alto come appunto Metroid Prime e riuscire ad uscire da questo castello mi sono bloccato perché non si può dove andare quindi mo lo finisco nel senso che devo cancellarlo e ricominciarlo da capo perché magari ricominciando da capo vedi una strada che non è riandata perché mi serve di essere arrivato quasi in fondo ma non avere tutti i poteri che mi servono per poter uscire dal castello quindi mi sono completamente perso non so dove andare anche se in realtà c'è la spezzana la lancia a favore di questo gioco che alcune cose anche senza i poteri ma con abilità e con bravura nel riuscire a fare a sfruttare il movimento molto libero in questo gioco riesce ad arrivare anche molto in alto e andare anche in posti in cui non potresti andare che proprio ci puoi andare che sono previsti dal gioco stesso e proseguiamo perché sono tanti esatto infatti vedi Mad Basic ma anticipato in realtà puoi andare dove vuoi andare anche senza poteri ma devi essere veramente molto molto bravo esatto sì sì io mi sono bloccato anche perché non so dove andare sono talmente tanti talmente tanti talmente tante porte è talmente intricato questo dungeon che non so dove andare altro gioco Giussant il premio è bello ma perché Giussant mi è piaciuto tutto di Giussant da un punto di vista del gameplay da un punto di vista della grafica la musica è bellissima mi piace il fatto che sia silenziosissimo che non ci sia difficoltà tranne che nel finale che tira fuori una vette di difficoltà non indifferente secondo me o forse sembra molto difficile perché fino ad allora non era stato per niente difficile perché è una difficoltà pari paragonabile a quella di un giorno infatti è quello che vuole fare Giussant un gioco silenzioso che basa sulla sua esplorazione e sull'immersività e sulla contemplazione del paesaggio che c'è intorno tra l'altro c'è Cronocross in sottofondo ora sì c'è Cronocross è molto figo ma ha un problema secondo me è la sua narrazione che è questa narrazione che è silenziosa e fin lì andrebbe bene perché ti riesce a capire e a comprendere cosa è successo nel mondo guardando diciamo i disegni lasciati sulle pareti i quadri o vedendo un po' i negozi abbandonati c'è anche questa cosa molto furba appunto che sono delle conchiglie che avvicinano all'orecchio e attraverso queste conchiglie riesci a risentire gli echi di quelle zone quindi riesci a capire chi c'era come vivevano come mangiavano cosa facevano in che posto però ho un problema veramente grosso che a me veramente ammorba i coglioni che sono ok ecco si parla veramente di questa cosa qui ora sto parlando di questa cosa qui il fatto che la relazione sia tutta incentrata su queste pagine diario che te trovi mentre scali e veramente nessuno scrive un diario così forse a sette anni lo scrivi così un diario questa cosa nessuno nel mondo scrive un diario del genere nessuno lo fa veramente ti tira fuori completamente dalla narrazione lo stesso modo anche i messaggini che si lasciano uno con l'altro veramente questa cosa qui non funziona perché nella realtà un diario così ma chi lo tiene un diario così non lo tiene nessuno forse la bimbina alle medi ma io e quindi questa cosa qui te lo fa scendere un po' e poi anche il fatto che secondo me colpevolizza troppo le generazioni precedenti per i danni che sono stati fatti all'ambiente ma le generazioni precedenti se ascoltiamo appunto se leggiamo se abbiamo voglia di leggere i diari erano completamente ignari quindi come si fa a dare la colpa a qualcuno se quello era ignaro di quello che sta succedendo quindi un po' così però peccato perché se non c'era se non avessero messo questi diari sarebbe stato un gioco migliore è incredibile questa cosa però è così ma siccome ci sono mi devo puppare e tocca andiamo avanti con un altro premio la gente si fuma dei beccannoni ora qui litigheremo con la chat io Lies of P l'ho odiato io non riesco a capire come questo sia uno dei giochi più premiati dell'anno a parte che non ha niente niente di suo di originale è tutto riciclo è tutta una copia ora vabbè che questa è la chat TM di Wesa quindi in verità dire che l'originalità non esiste tutto per mutazione già detto però c'è veramente una linea sottile tra permutazione e plagio perché qui veramente secondo me siamo quasi al limite del plagio ricorda ricorda solo solo tantissimo Bloodborne nelle meccaniche ricorda no attenzione che poi Sabacula cioè perché lui non può mai dire cosa non gli piace ha trovato le criticità soprattutto nel gameplay che ora vi esporerò anch'io che avevo già fatto un video sull'Ice OP lo trovate anche sul mio canale comunque sia l'Ice OP ha dei problemi tanto di lordi tutto che è sempre la solita roba uno che cerca di diventare superumano cioè Shinji Ikari ha rotto il coglione con Evangelion non possiamo continuare a riproporre il solito cattivo 30 anni dopo cioè basta ragazzi veramente basta e poi tutta questa storia di copiare Pinocchi copiare Blood non c'è niente di originale di questo gioco niente ma niente e voi mi dite l'originalità non esiste capito ma porca puttana sempre salite cose poi il gameplay non funziona perché se te fai un gameplay ecco esatto lo si arriva al gameplay se te fai un gioco basato come questo su il gameplay simile un misto tra Bloodborne e scusate no The Ring e Sekiro ovvero molto basato sul parry i nemici lo so che sono del robot quindi fanno degli attacchi strani caricati ma devono avere un input grafico che mi permettono di capire quando attaccano perché la prima volta che affronto un nemico io non riesco mai a capire quando attacca perché i colpi sono molto caricati sono molto robotici appunto essendo rimisciuti quasi tutti i robot o mostri Lovecraftiani tra l'altro Lovecraft ha rotto il coglione non santo io lo ami io non capendo io non capendo quando arrivano questi colpi che devo imparare per forza a memoria il pattern del boss o del nemico di turno per riuscirlo a sconfiggere secondo me l'esempio culmine di questa roba sono i tre boss come si chiamano quelli del del coniglio nero i tre conigli neri lì loro non sono nemmeno robot loro sono esseri umani io non l'ho finito ho battuto il re dei burettini poi mi sono rotto i coglioni che tra l'altro è il boss più facile del gioco secondo me questi tre conigli neri essendo umani non possono fare gli attai così caricati è assurda questa cosa perché se uno li picchia questi continuano a caricare si dovrebbero crepare non lo so no forse otto no la prima live di Eldering ho fatto 10 11 comunque si c'è tantissima gente in chat più che altro comunque si Alice of P proprio no secondo me no proprio da un punto di vista di gameplay perché dai di lore uno tappa l'occhi come io per esempio i Dark Souls i Bloodborne la lore l'ho sempre scoperta dopo no però qui è troppo sfacciato ho tutta la copiaggine che c'è anche lo stesso come si chiama quell'altro Lords of the Falling anche l'uscita quest'anno non è in questi premi né come migliore né come peggiore perché tutto sommato secondo me ha più dignità di Alice of P ha cercato di inserire qualcosa di nuovo poi secondo me copia troppo da Dark Souls 2 che è una merda quindi esattamente è una merda però Alice of P veramente non torna a nulla a partire dal gameplay che è veramente veramente brutto e non puoi fare un gioco basato sul Perry in cui non si capiscono quando arrivano i copi non c'è né un input grafico né un input sonoro niente è un gioco che veramente secondo me ragazzi si è fumato dai bel cannoni come vi dico appunto qui come questo premio per poterlo apprezzare così tanto oppure tu ti dico che è bello da dire che è bello per forza andiamo avanti ok anche qui premio è meglio il libro Hogwarts Legacy altro gioco che non mi è piaciuto per niente Hogwarts Legacy un gioco che veramente di una mediocrità un gioco così io non cioè io non mi capacito come questo è stato spinto così tanto bellissime ambientazioni ma te non sei mai Harry Potter cioè non vivi mai la scuola sei quasi più un aurora dentro Harry Potter meglio quello non lo so forse forse gli harmony sono peggio ma poi non ha niente ecco come spezziamo una lancia a favore di Harry Potter io l'ho letto quando ero ragazzino ci sono molto affezionato e non è così pessimo come lettura per i ragazzi per adolescenti e non c'è niente di quell'atmosfera del libro all'interno di questo gioco perché l'atmosfera del lico no non è un gioco per i fan della serie di Harry Potter secondo me perché un gioco per i fan ti dovrebbe far sentire come Harry Potter come uno studente appunto ma qui non ti senti mai uno studente ti senti sempre dentro questa Hogwarts che è fintissima tra l'altro anche se è bellissimo graficamente e tutto comunque sia non è il peggior gioco dell'anno secondo me cioè un gioco che è peggiore anche perché poi funziona cioè funziona tutto non è non è buggato non è che non funziona è proprio cioè proprio non sa niente non sa di niente è proprio insipido probabilmente se sei un fan fan super spiegatato di Harry Potter ci trovi qualcosa però cioè c'è un limite a tutto secondo me sì 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 ma infatti ma io infatti confermo di essere un fan di Harry Potter a me è piaciuto molto il libro avessi un figlio conoscessi un bimbino un bimbino un ragazzino giovane glielo farei leggere non c'è niente di atmosfera della stessa atmosfera di quel gioco intanto di questo di quel libro intanto di questo gioco che non non trasmette niente è come se tu andassi a un parco tematizzato Harry Potter non sei a Hogwarts invece un videogioco dovrebbe farti sentire appunto come se tu fossi a Hogwarts abbassa un po' la musica mi sembra un po' troppo alto ora e quindi boh veramente è meglio il libro è meglio il libro non ironicamente non ironicamente quanti cazzo i primi ci sono vabbè continuiamo il clone in modo dell'originale Vintage Story è un clone di Minecraft e levo le cuffie un altro non mi sembra niente Vintage Story è un clone di Minecraft solo che è più autistico diciamo così è molto più misterioso ha molti più segreti è molto più difficile mi sono divertito tanto perché l'ho giocato con la mia compagna io lo giocavo su computer e su Mac e questo è veramente allora se avete giocato a Minecraft e volete un'esperienza più difficile più hardcore più simulativa giocate a Vintage Story che è veramente veramente figo secondo me ne avevo già parlato mi sembra da qualche parte forse o su Silicon Arcadia o sul mio Substack questo è un gioco veramente che fa dell'atmosfera il suo cartine e poi c'è tutta questa lord nascosta dentro ci sono i dungeon che sono veramente una figata anche se l'ho fatto mezzo perché sono veramente difficili anche perché è veramente difficile e sfrutta molto la fisica devi fare il mulino per macinare la farina e con la farina farci il pane quindi non è di costruire veramente un mulino non è così facile un mulino che va a vento va a acqua è più un Hogwarts da immaginario generalista non è quello del film o del libro ma viene fuori dall'immaginario che si è venuto a creare nella cultura pop sì 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 è veramente una cosa inzipida è il classico gioco che deve arrivare a tutti e quindi non arriva a nessuno invece Winter Story è un gioco che deve arrivare in una fetta di pubblico quella fetta che vuole un'esperienza molto hardcore che però gli piaceva Minecraft che tra l'altro mi sembra che questo all'inizio fosse una mod di Minecraft e quindi da lì poi si passa un gioco completamente fuori di test perché è veramente difficile però è veramente difficile tra virgolette perché non essendoci la morte come Minecraft non ti arrabbi mai andiamo avanti cominciamo con la top 10 e poi ci saranno altri premi nel mentre allora il primo la top 10 è messa completamente a caso tranne i primi tre che la top 3 invece è messa è messa in ordine abbassa un po' a me mi dà fastidio alzo un po' a voi ok partiamo subito con Pizza Tower che tra l'altro hanno sentito parlare pochissimo in Italia invece è stato un periodo della sua uscita che sulle boards e sui forum online se ne parlava tantissimo all'estero in inglese ovviamente in Italia figuriamoci se si parla di una cosa del genere è un Wariware completamente fuori di testa o no sono solo giochi che ho giocato nel 2023 non che sono usciti nel 2023 giochi che ho giocato per la prima volta nel 2023 non giochi che ho già giocato io ho rigiocato anche se no ci sarebbero anche quelli di lì giochi che ho giocato nel 2023 per la prima volta che ho finito nel 2023 poi ci sarà anche il miglior gioco uscito nel 2023 no no i migliori no sono top 10 in generali giochi giocati per la prima volta nel 2023 anche perché se no non ci sarà arrivato una top 10 di giochi usciti nel 2023 perché non mi ha garbato niente tutti a dire che questo è stato il miglior anno videoludico per per i videogiochi a me sono strozzo ragazzi non ci posso fare nulla benvenuto a Andre Zambri Zainbri boh allora dicevamo Pizza Tower è un Wario Ware completamente fottuto ti devi finire questi livelli arrivare in fondo prendendo più pizza possibile più ingredienti della pizza possibile e quando arrivi in fondo distruggi la colonna di questa torre e quindi questo livello comincia a crollare e comincia a scappare a tornare indietro e quindi indietro devi fare il livello al contrario ricordandoti però il pattern perché c'è un tempo se non riesci a uscire dal dentro lo scadere del tempo dal livello crepi è veramente cioè io non capisco perché la Nintendo abbandoni certi a me Zelda ha fatto schifo dopo se ne parla anche di Zelda non mi è piaciuto Street Fighter infatti dopo si parla di tutto John John con calma allora Pizza Tower consigliatissimo e mi ricorda come sempre che Nintendo ha tantissimi franchise tra cui WarioWare che nasce da Mario Land è la riga dopo esatto è letteralmente la riga dopo che si scordi di averli e li abbandona da parte cioè non li porta avanti ma perché Pizza Tower ha dimostrato che non solo è un gioco del genere ancora divertente nel 2023 ma che c'è anche una bella fetta di pubblico soprattutto all'estero questo gioco è stato tanto premiato è stato discusso e parlato quindi vuol dire che è piaciuto è un mezzo meme ci sono le recensioni su Steam sono bellissime però è veramente un gioco divertente poi non dura niente dura 6 ore mi sembra 7 è come l'allunchi questo gioco qui perfezionando il tempo nel completamento dei livelli quindi è un gioco da speedrunner ma è figo è molto divertente e poi ha una colonna sonora veramente eccezionale che ogni tanto mi ascolto no The Earth of the Kingdom è molto peggio di Breath of the Wild ma poi ci si arriva con calma e Satori si arriva anche a quello lì Breath of the Wild è molto meglio di The Earth of the Kingdom si arriva con calma si arriva a tutto si parla di tutto quindi Pitstower se non lo avete giocato ve lo consiglio che mi sembra che poi tra l'altro su Steam non costi nemmeno tanto tra l'altro con gli sconti era sceso tipo a 5 ore dovevate prendere che veramente è un gioco divertentissimo è proprio il gioco è il ludo definitivo proprio un gioco non c'è trama non c'è niente è una stronzata che c'è questo qui che ha per una pizzeria è quello della torre Pizza Tower appunto che è una catena di pizze lo manda quasi in malora che ne sono proprio di lui e allora lui entra dentro questa pizza per vendicarsi tutta lì la trama è divertimento puro andiamo avanti con un altro dei migliori 10 questo è completamente l'opposto di Pizza Tower Firehanger che ho fatto due finali considerato al secondo finale che non vi spoil perché chiaramente questo è un gioco che basa molto sulla trama molto sulla lore molto sulla scoperta sono andato al secondo finale che penso che non sia il finale principale ma è un finale che mi ha soddisfatto e quindi ho smesso anche perché il gioco è veramente punitivo è veramente difficile tra l'altro questi due giochi di cui ho parlato sono pieni anche nella mia top 100 dei miei giochi preferiti di sempre quindi sono giochi veramente belli tosti Firehanger che cos'è è un dungeon crawler diciamo così RPG classico devi diventare dentro questa prigione e devi liberare un prigioniero o devi raggiungere questo prigioniero e poi da lì si scatenano diverse cose diverse lore per cominciare il gioco è molto difficile ha la struttura un po' del roguelike perché ti crepi molto spesso quindi ti ricominci da capo la partita si intendo proprio dire che la poetica di Breath of the Wild è uscita un po' in acquata anche narrativamente proprio di un gioco molto peggiore perdono l'off topic non voglio anticipare tempi di discussione sì la poetica di Breath of the Wild all'interno di Breath of the Kingdom è peggiorata ma Breath of the Kingdom è completamente un gioco diverso a Breath of the Wild dopo ne parliamo a modo e Fear of the Angle è un gioco che tanto si basa molto su su Berserk e su quell'immaginario lì tra l'altro la persona che devi salvare che è questo personaggio al centro del titolo che non mi ricordo come si chiama è molto ispirato a Griffith di Berserk è un gioco che ha un'estate che è favolosa una difficoltà molto elevata una lore veramente fighissima una trama veramente figa ancora lì non è che il gioco devi farmare per diventare più forte e riuscire ad arrivare in fondo è l'esperienza che devi farmare e a me il giochi in cui devi farmare l'esperienza appunto come sarà il primo gioco di questa top 10 mi do un hint in cui la tua esperienza l'esperienza come te di giocatore è il farming ovvero te accumuli l'esperienza e quando inizi il ciclo inizi il livello hai imparato però i personaggi non si potenziano sempre i soliti ricominci a capo sai che non devi affrontare nemici sai che devi sfuggire sai cosa attaccare per il primo di un nemico sai quale parti colpire il primo di un nemico sai quale nemici affrontare quello non fare dove andare cosa fare la tempistica è tutto tra l'altro questo gioco perché ti mette anche i fretta in un certo senso soprattutto all'inizio veramente un gioco che lo consiglia anche questo gioco sta tipo a 10 euro su Steam ci sono giochi assurdi Fier e Hunger e c'è anche il secondo che si chiama Fier e Hunger 2 che tra l'altro mi sembra sia ambientato ecco una canzone di Metroid Prime tra l'altro mi sembra che sia ambientato ai giorni nostri che ce l'ho però l'ho abbandonato su due che è veramente difficile appunto come il primo e quindi era troppo esausto però quello lì lo voglio giocare è un gioco che voglio portare a termine perché sono sono giochi incredibili cioè a volte non ci si crede che siano fatti da una persona singola o da un team così piccolo anche perché hanno molta più anima molto più cuore di alcuni giochi AAA che costano un sacco di soldi andiamo avanti ah ok allora questo è uno dei miei giochi preferiti di sempre è un gioco online di Proc Galactic questo cioè non è che sia un gioco profondissimo però ha ha un'atmosfera anche una cosa che premio tanto nei videogiochi io è l'atmosfera l'atmosfera è veramente l'elemento principale di un videogioco se un videogioco ha una buona atmosfera ha fatto già il 90% del lavoro secondo me questo gioco che cos'è? te sei un nano devi scavare delle miniere nello spazio con altri giocatori prendere il bottino tornare sull'autona e cazzeggiare carino se c'è un capolavoro secondo me John John però con minerali con i soldi che fai potenzi il personaggio diventi più forte e tutto però la cosa principale e bella di questo gioco qui è la community sono sempre io faccio schifo nei videogiochi non ho mai ideato con nessuno mi hanno sempre aiutato sono sempre tornato indietro a prendermi perché è proprio l'estetica l'atmosfera del gioco ti invoglia ad essere amichevole verso gli altri quando finisci una missione c'è il pub vai lì con gli altri prendi la birra festeggi per finito cioè è tutto bello tirate i barilli di birra contro contro il cesterlo del basket che si muove per fare più punti giochi costantemente con gli altri nessuno si arrabbia nessuno ti pinga oltre per farti arrivare a un punto per non perdere la missione anche se perdi nessuno si arrabbia io io gioco tantissimo soprattutto a World of Warcraft e a League of Legends World of Warcraft in realtà va una bellissima community secondo me all'inizio parlo fino a Burning Crusade quando ho giocato io ed era molto chill come gioco nonostante fosse anche competitivo perché i raid e i dungeon erano molto difficili invece League of Legends ha tirato il peggio fuori dai giocatori e anche da me Deep Galactic mi ricorda un po' quella sensazione che si provava la prima volta che giocava a World of Warcraft perché appunto è tutto rilassatissimo anche quando sei lì che ammazzi questi insettoni questi alieni che ti vengono addosso e ti fanno un club come una casa non senti mai Lanza anche se stai perdendo perché gli altri sono sempre disposti ad aiutarti non ti offendono mai non devi fare report alla gente cioè veramente perfetto funziona tutto e secondo me nell'online di oggi nel 2024 per me è stato nel 2024 questa cosa è fondamentale perché pensate voi a un gioco online in cui non ti incazzi non esiste dei Pro Galactic riesce a far giocare online con altri tre giocatori che non conosci o che conosci dai tuoi amici che non conosci a non farti arrabbiare mai a non farti offendere mai ed è quindi va premiato solo per questo andiamo avanti ah ok qui si inizia nuovamente con i premi speciali il primo premio special un altro premio speciale va a Pixel Ripped invece a 95 tuttavia la community è meno incisiva sulla valutazione di un titolo dell'originalità non ho capito non sta già canaglia e va a questo Pixel Ripped che è un gioco VR che ho giocato quest'anno è un gioco meraviglioso l'ho messo in questo nella mia top 100 e non l'ho messo nella top 10 perché se no ci volevo mettere l'altra roba non lo so perché allora dipende la community in Dark Souls merifica meno di zero la community in Breath of the Wild merifica meno di zero però in un gioco online che devi giocare con altri giocatori se la community è tossica ti roviene il gioco se invece la community è chill ti aiuta vuole divertirsi fa le battute ti invoglie a giocare ti aiuta ti dà gli oggetti che ti servono e non devi mitigare mai con nessuno cioè è fondamentale in un gioco online è così parliamo di Pixel Ripped Pixel Ripped è un gioco VR cosa fa in questo gioco? sei un bambino nel 95 che gioca al NES allo SNES in realtà che gioca allo SNES e questo videogioco prende vita il personaggio di questo videogioco è questa ragazza qui che si vede in copertina prende vita e te la devi aiutare a impedire che i nemici del gioco escano dal gioco stesso e invadino il mondo reale quindi te sei col visore che stai giocando al Super Nintendo a questo gioco e com'è? da una parte gioca il videogioco e dall'altra parte devi impedire alla tua mamma o al tuo papà a tuoi amici che vengono a disturbarti a spengerti la console a chiamarti ad andare via per esempio c'è la tua mamma che fa sei in cucina la tua mamma prepara il pranzo e te li devi il personaggio del gioco appunto all'interno del gioco ti dà una pistola apposta che la tua mamma non riesce a vedere che crea casino in casa quindi te sei lì col controllo del mano che giochi però tiri fuori anche la pistola a volte e spari verso la credenza cadono i biscotti quindi tua mamma viene distratta e non viene a spengerti la console quindi hai da una parte questo gioco si trasforma anche un po' il genere a volte è uno zeldoide a volte è una metroidvania quindi cambia e devi interagire col gioco e li stai andando al gioco per impedire che il nemico non scappi e a volte elementi del gioco entrano anche nella realtà per esempio c'è un livello nell'acqua e la tua camera che sta sotto le coperte a giocare con la luce accesa devi sentire tua mamma che sta arrivando devi spengere la luce per non farti beccare senti l'acqua fuori esce dal gioco in un mondo tutta la tua camera quindi devi essere abbastanza veloce a finire il gioco prima che l'acqua ti anneghi e essendo tutto in VR rende tantissimo e nostalgia perché ti riporta un po' il tempo di quando eri bambino che giocavi di nascosto e non ti volevi far beccare dalla mamma appunto perché stavi giocando ti divertivi e tu mamma venire a rompere il coglione e spengi vai a letto invece in questo momento non puoi spengere perché stai salvando anche l'umanità in tutti i sensi e poi non ho capito se è tutto un viaggione che si fa il bambino o se è veramente la realtà se sta veramente succedendo quello che l'avventura è intorno a te però è veramente figo a me è piaciuto tantissimo e tra l'altro c'è sempre della solita serie un altro gioco che è uscito nel 2023 si chiama Pixel Ripped 1978 che parla del creatore del videogioco e il creatore del videogioco si sta creando questo videogioco e vorrei giocarlo in quello lì però il VR richiede molto impegno e molta fatica per giocarlo quindi bravfighissimo nel senso il VR può dare un senso di presenza incredibile quindi veramente premiate voi VR tanto non ce l'avete perché non ha avuto molto successo se l'avete giocato anche che questo sul Metastore l'ho pagato una sega l'ho pagato 5 euro 4 euro c'è anche su Steam quindi boh se avete il VR provatelo per forza andiamo avanti a Mediocrata dell'anno Steam of Stars cioè io anche qui gioco che è stato premiato come miglior indie at GA at The Game Awards io non mi spiego come questa roba si è arrivata a vincere un premio non ha io allora accension fatta no 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 mi sono rotto i coglioni prima cioè no io se mi rompo le palle a un videogioco lo lo droppo e basta il tempo vale più dei 40 euro che ci ho speso e se Avustarsi veramente non allora c'è una la grafica pixel in pixel art che è molto bella vero però le cutscene in animazione animazione poi cartone animato disegnato è orrenda è orrenda il combattimento non fa schifo perché non migliora mai non è che non migliora mai non c'è avanzamento quindi dall'inizio alla fine almeno fin dove sono andato io che sono quasi a metà del gioco penso di essere a metà del gioco non cambia mai niente fai sempre le solite cose non c'è programmazione del combattimento non c'è strategia non c'è tattica non c'è niente perché te c'è sempre le solite abilità e fai sempre le solite abilità durante il combattimento tutto come è tutto così i dungeon non tornano e la trama è veramente una pacchianata assurda con questi due personaggi che uno è il guerriero del sole uno è la guerriera della luna hai tre abilità dall'inizio alla fine e queste abilità devono essere concatenate dall'altro premendo i tasti sul pad quindi è un JRPG che vuole unire anche un po' di di action e di ritmo e di ritmo game all'interno del gioco quindi una palla stratosferica la trama non torna a niente cioè questo gioco è orribile i personaggi sono cringissimi il terzo personaggio che è il ragazzino obeso che fa il cuoco è insopportabile è insopportabile e tra l'altro sembra lui il protagonista perché è lui che parla di continuo fa continuamente battute questo millennium writing ogni tre secondi tutti sono bravi tutti sono belli tematiche LGBTQ+, tutte queste cose qui certo tutto quello che odio in un videogioco è qui dentro e questo l'ho preso perché era stato spinto da Cedo Icos a credere che tutto sommato forse i JRPG avevano qualcosa da dire ma questo non ha niente a che fare con Cedo Icos questo è un gioco orribile ma non è che è orrenda è insulza perché io non so come spiegarlo cioè veramente se non lo sapete provatelo prendetelo su Steam e fate il refund dopo due ore ma è veramente orribile questo gioco qui ha vinto dei premi ha preso anche dei votoni altissimi capisco la grafica capisco la pixel art che è deliziosa onestamente e alcune cose all'interno del mondo sono veramente fighe buonasera Davide David però questo gioco è veramente è mediocre è mediocre infatti è mediocre è stato all'anno c'è su Game Pass il giocatore su Game Pass è orrendo orribile ma non è orribile come il gioco che ha vinto il premio peggio gioco dell'anno ci arriveremo dopo continuiamo con i migliori 10 e Moondown cos'è cioè bravo bravo è basic giocatelo e pentitevi è veramente correndo tra l'altro su Game Pass c'è anche c'è idea di cos'è provateli insieme e poi ditemi allora Moondown Moondown perché è qui è un gioco dell'orrore potremmo dire così è uno stealth game cresce un gioco dell'orrore che c'è questo mostrone che ti insegui di divina mostrone mostrone che ti insegui di divina sconde bla bla allora qual è la figaggine tanto di cominciare lo stile grafico è tutto quello che vedete sulla copertina tutto così sembra tutto come se fosse un dipinto fatto con le tem come si può dire con la matita con le graffiti ambientato in questa Romania in queste Alpe rumene e ce l'hanno tolto recentemente prima si poteva fare il confronto direttamente ok perfetto giochi belli li tolgo nel game pass buono mundana e ganso perché la storia sembra la solita cazzata all'inizio ma poi diventa veramente una figata te ti lascia in eredità questa casa sulle Alpi tuo nonno muore ti lascia questa casa in eredità prendi il pulmono e vai sulle Alpi e cerca questa casa poi vai comincia a scoprire dei misteri che tua nonna ha fatto un po' delle cose diciamo così non convenzionali durante la seconda guerra mondiale comincia a scoprire un po' di loro all'interno del paesaggio però la cosa più figa sono le soluzioni di le soluzioni grafiche di livello proprio di livello di level design all'interno del gioco ci sono a un certo punto vedi un nemico specchiato nel lago ma lui non c'è veramente una figata dietro l'altra anche la parte finale in cui cammini in quella casa stranissima che sali scendi riesce più a capire ricorda un po' Esker le scale è veramente figo soprattutto a livello visivo e la trama nonostante sia stata banale banalità del patto col diavolo e quindi gli eredi ereditano le stronzate che hanno fatto che hai fatto te riesce comunque sia a sorprenderti nel finale è anche un bel finale secondo me un bel finale misterioso e che ti lascia un po' con l'amaro in bocca che secondo me come i migliori horror cosa ti devono lasciare alla fine ti devono lasciare con l'amaro in bocca e quel senso di disgusto sennò che il senso ha un horror che esci dal cinema diciamo o finisci il gioco e sei contento l'horror defini che ti senti male che ti senti male che ti senti triste che ti senti fregato anche in certo punto di vista comunque Moondown questo è fine questo sta su steam e non costa un cazzo e invece di giocare a starfield 60 euro a 70 euro gioate Moondown andiamo avanti ah Poimpy Poimpy è altro gioco del 2023 un gioco che ho giocato con Netflix perché Netflix avete visto ha messo anche i giochi sul suo store sul suo catalogo Poimpy è un gioco da cellulare adesso hai questo esserino verde e hai questo costo blu che ti permette di fare dei rimbalzi devi prendere della frutta in base a quello che ti dice il mostro che ti sta seguendo che è un gatto gigante così prendi questa frutta qui quando atterri gliela dai a lui o la perdi se non hai presa nell'ordine giusto gliela dai a lui e la mangia e lui torna giù e riesce a riscappare è un gioco arriva la musica di Final Fantasy IX molto bella tra l'altro è un gioco che potrebbe sembrare uno di quei giochi senza fondo ma non lo è perché ha un inizio e una fine e ha anche una trama tra parentesi perché poi è una tutta cosa unirica che non si capisce una sega è molto figo non costa niente è uno di quei giochi da giocare sul cesso che si gioca con un dito solo anche devi prendere la mira con questo cosino prendere la frutta nell'ordine giusto rimbalzare sui muri rimbalzare sui nemici fare i più punti possibili e sganciare poi la frutta come richiesta al gattone che ti stai inseguendo tutto qui non c'è niente di più ma anche questo è un gioco un po' perché l'ho giocato gratis quindi ci sta un po' perché uno di quei giochi che ti giochi così in spensierata in spens... ce lo sto vedendo benissimo ok uno di quei giochi che giochi così mentre sei successo mentre sei un po' spensierata al giro invece di guardare Instagram giochi a po' impi e ti va avanti la vita in modo migliore comunque è un gioco figo un altro un altro top ten è Paper Beast è un gioco VR aspetta un attimo un gioco VR di tra l'altro di Kail che è quello che ha fatto anche Another World Heart of Darkness e Populus un gioco meraviglioso questo è un gioco veramente bello un gioco che fa del senso di presenza tipico del VR che solo il VR riesce a a dare tutta la sua forza tutta la sua poetica te sei in questo mondo in cui gli animali sono fatti di origami non riesci mai a capire quando entri nel menu esci dal gioco non riesci mai a capire quando inizia quando finisci il gioco quali sono le schermate di impostazione e poi non lo sono e quindi basa tutta la sua trama tutto il suo mistero sul fatto che te non riesci mai a sapere se tutto quello che stai guardando è una simulazione è la verità che poi è la cosa figa del VR c'è tantissimi giochi che spingono su questo in VR scusate questo è molto figo tra l'altro parla anche tutto sommato della quantità enorme di dati che ci sono in internet noi siamo sommersi a questi dati e la quantità stessa dei dati li rende irrilevanti appunto un po' come il discorso che fa Axley nel libro che la quantità appunto di dati è quasi una censura perché essendoci tantissimi dati nessun dato tantissimi dati intesi come informazione nessun dato nessuna informazione ha più importanza e più rilevanza rispetto agli altri è un po' quello che c'è da noi nel mondo d'oggi con tutta l'importanza e tutta la frequenza di dati a cui siamo sottoposti sui social non riusciamo più a dare la giusta importanza alle cose oppure se ne da troppa sì sì è un po' metalliarsoli di due sì esatto però a parte che è un gioco che te passeggia alla fine devi risolvere alcuni puzzle ma non sono mai difficili e ha delle trovate visive molto belle quando per la prima volta prendi il volo sulla mongolfiera e voli solo questo deserto e guardi gli animali sotto dà un senso veramente di avventura e di magnifico che in un videogioco normale sarebbe impossibile dare perché il voero è una figata ragazzi è una figata e è difficile da vendere perché se voi guardate un video di uno che gioca a un gioco VR non è mai come provarlo quindi se avete dei soldi da parte invece di prendervi una Switch prendete un Meta Quest 2 che non costano nemmeno nulla mi sembra 250 euro e provate poi sono un Vigalbo lo prendete su Webay però il VR è veramente figo ed è anche difficile da far trasparire e a me dispiace che stia fallendo infatti io sarei curiosissimo di prendere PlayStation 5 Gran Turismo 7 e il volante col visore VR della PlayStation 5 per poter provare il VR e poi c'è anche che l'altro gioco VR del PlayStation 5 è uscito ora è uscito ora è uscito questa estate nel 2023 che ti sei uno che usa i poteri mentali in telecineta e sposti le cose con lo sguardo quindi guardando le cose riesci a spostarle e a individuare vorrei vedere come funziona cavolo vorrei vedere com'è deve essere una figata assurda per esempio a me Alyx che è il gioco che è stato quello più venduto più chiacchierato di VR non mi è garbato per niente non è qui perché non è bruttissimo però non mi è piaciuto Paper Beast Pixel Ripped sono molto migliori Ries Magus Mossa altri giochi che ho giocato sono meglio di Half-Life Alyx Half-Life Alyx è un gioco normale la figata di Half-Life Alyx è quando all'inizio per esempio con la penna scrivi sui muri queste cose che poi andavanti non le fai più perché gli andano a gioco uno sparatutto in prima persona con la visuale a 360 gradi e perde un po' la sua bellezza invece Paper Beast Pixel Ripped fanno appunto del senso di presenza la loro poetica all'interno del gioco andiamo avanti questo è un altro gioco sempre dei migliori dieci The End of The House o si dirà così non lo so allora avete presente Oblivion è Oblivion è fatto con due soldi da un team indie piccolissimo c'è questo mondo devi capire cos'è questo di Eus devi scoprire perché è finito devi scoprire dov'è di scoprire queste cose quindi non ti dà nessuna informazione del gioco ti butta all'interno di questo mondo e vai avanti il combattimento è quello degli The School quindi è una merda però il senso di esplorazione il senso di sentirsi persi completamente costantemente in ogni momento in cui vai il senso di scoperti ci sono alcune cose che io se andate a vedere ora voi il trailer non vi dite è una stronzata ma ci sono alcune cose anche io l'ho preso così come se fosse una stronzata me lo consigliò un ragazzo su un forum l'ho presi mi ha detto Binding of Isaac l'ho presi così consigliato lo giocai e ho detto ma questo gioco è veramente tosto non solo è tosto a livello proprio di difficoltà ma è tosto perché c'ha delle idee dentro veramente geniali ci sono alcune cose non voglio esplorirarvi di tanto che ti fanno dire ma questo qui come la pensate ti perdi costantemente quando ti perdi poi sei sempre nel posto giusto quindi è anche pensato bene perché te sei sempre è un mondo un open world ma sei sempre nel posto giusto per trovare la cosa che ti serve e poter andare avanti nel gioco è veramente una figata e si finisce in dieci ore anche non dura nemmeno tanto i boss sono difficilissimi è anche difficilissimo il gioco di per sé quindi veramente figo però è difficile parlare di queste cose qui come The End of Deus perché sono giochi che hanno giocato sì sì perché non li dai due lire a prescindere anche quando lo giochi la prima ora dici ma questo è Oblivion fatto con Oblivion Skyrim fatti con due soldi però a questo punto arrivi in certi posti della mappa che hanno veramente delle idee fighe e diventano del puzzle dei labirinti in tutti i sensi e ti perdi completamente è fighissimo non è il gioco della vita tra i giochi che ho giocato quest'anno è uno dei migliori dai andiamo avanti ah ecco questo è il miglior gioco uscito nel 2023 che ho giocato nel 2023 questo è Street Fighter 6 che secondo me è il GOTY 2023 in tutti i sensi è un gioco uscito tantissimo è un gioco di cui ho un video sul canale che è sempre lì programmato ma tutte le volte lo rimando lo rimando perché io ho 4-5 video avanti programmati sul canale e tutte le volte Satori e tutte le volte lo rimando costantemente sto gioco perché voglio fare una cosa con la chat però perché è un po' troppo voglio metterla più qua ok e tutte le volte rimando questo video perché ho sempre un video più attuale da mettere sul video prima di Street Fighter 6 comunque Street Fighter 6 è il gioco dell'anno è un gioco che sposa molto la filosofia Daishin come vedete ma che cazzo è la filosofia Daishin del Tao queste cose qui in cui il modern Wetherow lo schifa io ci gioco grazie a un modern se no non avrei mai potuto giocare che sono una schiappa ma il modern ha senso se sei una schiappa come me da giocare perché ti porta a dei livelli decenti in cui ti diverti a giocare anche contro avversari più forti di te più forti di te che poi se sei un coglione con i comandi modern non ci fai niente cosa sono i comandi modern per chi ha vissuto su un'altra planet fino ad oggi i comandi modern sono dei comandi che facilitano le combo in Street Fighter quindi invece che fare la Duken con la mezzaluna colpo del pugno pigia avanti il colpo del pugno e ti fa il modern però il modern cosa fa allo stesso modo ti leva delle mosse quindi personaggi modern è più facile da usare ma meno mosse quindi a livello competitivo altissimo non si usa a livello competitivo a livello medio come gioco io lo usano in pochi perché la gente lo ritiene disonorevole a me mi importa una sera mi vuole divertire quando gioco a videogiochi e con il modern mi diverto e tra l'altro Street Fighter 6 il gioco di lotta in generale ma io l'ho scoperto con Street Fighter 6 premiano più il cervello che l'istinto anzi l'istinto si deve allenare al cervello diciamo perché devi pensare a cosa farà il tuo avversario è come se fosse un gioco di scacchi ma con pochissimo tempo quindi non hai tantissimo tempo per pensare alle mosse dell'avversario devi andare dritto per dritto hai pochissimo tempo per pensare alle mosse dell'avversario e le devi azzeccare perché anche la mosse è stato il cazzotto verso l'alto che è quello che riesce a impedire che l'avversario si salte in testa devi essere bravo a capire quando utilizzarlo capendo che l'avversario sta per saltare e vuole saltare quindi tutto un gioco di scacchistica diciamo ma a livello molto più veloce e molto più di azione ovviamente gli scacchi sono un altro gioco però per intendersi non è un gioco così come si giocava da Momboretti a Cabinato che si spippolava tutti si faceva un casino a madonna è un gioco che pure forterse una sega aspetta che pure forterse una sega è a suo modo una cosa zen in realtà esatto è un gioco molto zen perché devi capire il momento devi capire l'avversario non conoscendolo non sapendo niente è fighissimo è fighissimo io State Fighter 6 è veramente figo andiamo avanti premio sciofeca dell'anno allora devo essere sincero io in realtà Starfield è un gioco che aspettavo perché perché a me i giochi nello spazio piacciono infatti per esempio come si può dire Nomest è uno dei miei giochi preferiti di sempre Freelancer è uno dei miei dieci giochi preferiti di sempre e sono i giochi che fanno dell'esplorazione spaziale il loro punto forte il problema di Starfield non è che è brutto è che non è un gioco di esplorazione spaziale è Fallout è Fallout con un hub che è l'astronave non c'è nient'altro te sei va nel hub in un'astronave che sei per spostarti nelle mappe nelle mappe vai e fai quello che fai in Fallout ma siccome a me Fallout mi hanno sempre fatto schifo non ironicamente ho sempre finito molto di gran lunga i Dead Scrolls primo tra tutti e primo tra tutti Oblivion e Starfield è veramente brutto poi io non capisco come sia possibile riuscire a passare in fase di beta testing il fatto che ci sono tutti per caricamenti ma loro l'hanno giocato prima di metterlo sul mercato e secondo me è un gioco che è uscito troppo presto secondo me se l'avessero testato di più avessero aspettato di più a farlo uscire l'avevano già rimandato quindi non potevano aspettare un'altra volta per rimandarlo se ci avessero ragionato di più tutti i caricamenti all'interno dell'astronave non ci sarebbero stati perché non è possibile che io per spostarmi su un pianeta devo andare nell'astronave dall'astronave devo uscire dal pianeta quando sono fuori dal pianeta devo scegliere su che pianeta andare quando arrivo su quel pianeta devo attraverso quel pianeta scegliere il punto in cui atterrare è assurdo devo uscire dall'astronave un'altra volta e tutti qui sono caricamenti infatti per forza l'SSSD per giocare a Starfield che è richiesto come requisito minimo l'SSD cioè la scheda di memoria quella super veloce perché se no per fare una cosa ci vogliono 20 anni perché è un caricamento costante il combattimento non funziona esattamente come nel Fallout e come negli Elder Scrolls l'esplorazione non funziona perché alcuni pianeti sono vuoti nonostante c'è la spezzare una lancia a favore quando arrivi su un pianeta deserto e in lontananza vedi queste strutture enormi ti danno proprio l'idea che quello sia un luogo in cui può entrarci un'astronave grossissima delle astronavi e tutto quindi forse da un punto di vista estetico funziona anche solo che sia troppo lento non funzionano i movimenti non funzionano i movimenti a piede non funzionano i movimenti nello spazio non funziona la trama è un cesso schifoso però non sono tanto a fondo perché dopo un po' mi sono andato e l'ho droppato e ci sono molti bug anche qui non è rifinito come gli altri Fallout non è vero che funziona male questo bisogna dirlo io l'ho giocato sul mio computer che è una 1080 e mi è andato liscio come l'olio andava a 60 fps ovviamente non giocavo a ultra e qui c'è gente che pretende giocare a ultra sul pc con una 720 però cazzo io l'ho giocato a medio con qualcosa altro e ultra addirittura mi andava discretamente la cosa problematica sono i pianeti procedurali senti tanto troppo la difenza tra quello che è fatto a mano e quello procedurali anche le performance risentono di queste scelte è vero è vero però per esempio in il nome sky funziona nei pianeti procedurali perché il nome sky è basato sull'esplorazione e sulla meraviglia di trovare cose strane stramboidi su questi pianeti quando fai un gioco come Starfield che è molto centrato sulla narrativa purtroppo perché dovrebbe essere più citato sull'esplorazione sul viaggio spaziale queste cose non funzionano più perché quando un pianeta è procedorale la narrativa viene meno devi asservirti alla proceduralità del tutto quindi non puoi dargli quella direzione artistica quella del design che avresti dato a un videogioco invece che Sotori scusami ti faccio una domanda mentre stiamo in chat ma puoi sempre iscrivere perché mi è arrivato mi aveva detto che mi aveva segnalato il fatto che avessi scritto Sega quindi se puoi sempre iscrivere da batti un colpo se no mi toccavi esatto esatto il problema di Starfield è troppo grosso troppo grosso troppo grosso meglio pianeti meglio disegnati oppure non è vero che era meglio averne meno oppure tantissimi pianeti ma mi devi dare ok ok oppure mi devi dare un movimento più fluido e più veloce assolutamente e mi devi permettere di usare la nave per viaggiare sui pianeti perché io non posso andare come è possibile che non possa andare su un pianeta che tra l'altro non sembra nemmeno giustificato di Trump per esempio in come si dice in Freelance ho giocato 2005 quindi su pianeta non potevi andare nello spazio loro ti dicono che con una nave con cui viaggiare nello spazio non poti atterrare sul pianeta perché i motori dell'iperspazio non funzionano sulla terra si rovinerebbero quindi andavi in questo docking e col docking poi scendevi sul pianeta e andavi nel market così sulla piedi quindi dovranno darmi una giustificazione ma qui non riesco andare niente non riesco a giustificare niente è una merda è una merda perché un gioco fatto ti vuole fare troppe cose te lo stai passando il discorso un gioco che vuole fare troppe cose fare troppe cose non riesce niente non riesce in pochissime cose Prey no io Freelance Freelance Prey non Prey aspetta Prey l'ho giocato ma non l'ho mai finito perché in quello l'immersive sim non mi piacciono purtroppo anche se di Sony Red si in realtà andiamo avanti il gioco il gioco più sopravoluto della storia allora io ve lo dico nel 2034 tornate tutti su Cellius Twitch e diciamoci questa cosa che tra dieci anni ci rendremo conto di quanto cavolo sia stato sopravvalutato questo gioco allora spezziamo tutte le lanci a favore che vanno spezzate perché questo è vero ha pochissimi bug e ti puoi fare un sacco di cose quindi chapeau perché veramente si bugga veramente poche volte i dialoghi hanno senso perché quello che risponde effettivamente ha peso poi nella trama il combattimento è figo perché quello di Dendy 5.0 perché il combattimento è figo perché quello di Dendy la mia edizione Dendy le classi sono fighe nonostante il druid sia un po' castrato perché per quale motivo non mi dai evoca animali che la so perché in realtà oltre a trasformarsi in animale ci sono alcune cose che funzionano alcune cose che funzionano meno ma incominciamo a parlare delle cose negative tanto per cominciare la base di partenza è la stessa identica non sto scherzando è la stessa identica di D&D Original Sins 2 non so se l'avete giocato in D&D Original Sins 2 hai un personaggio che è su questa nave hai questo colore al collo che non ti permette di fare alcune cose questa nave la fragrava su un'isola e te su quest'isola trovi gli altri personaggi con questo colore al collo vi spiego l'unice Baldusche 3 te sei un personaggio che ha questo verme Mind Flare nella testa su questa nave Mind Flare precipiti su quest'isola e su quest'isola trovi altri personaggi che hanno questo verme Mind Flare nella testa insieme a loro devi scoprire il perché sono identici l'inizio è identico l'inizio è identico è copiato poi tutta questa novità non l'ho percepita perché esattamente come Divinity Original Sins all'epoca puoi fare le stesse cose che Divinity Original Sins è aperto allo stesso modo i dialoghi funzionano allo stesso modo so che Divinity Original Sins 2 che è degli stessi è sempre di Larian Studios non avendo dietro D&D era molto meno conosciuto quindi il senso di novità è stato molto più ampio ma io perché avevo già giocato Divinity il senso di novità è stato poco cioè non il fatto che è stato molto implementato bene i regolamenti di D&D all'interno del gioco fine poi vogliamo parlare di scrittura la trama è una solita cosa la solita cosa fantasy un po' pallosa i personaggi sono tutti antipatici tutti il vampiro che è il personaggio preferito da tutti io trovo insopportabile sono tutti personaggi allora allora li farò odiare da tutti Rick e Morty ha rovinato l'intrattenimento ma non perché Rick e Morty è brutto perché se non sei Rick e Morty se non sai scrivere così le cose non puoi copiarli fateci caso da quando è uscito Rick e Morty tutti i personaggi sono cinici sono stronzi se ne fregano ma tutto sommato sono dei teneroni parlano liberamente del sesso che non è un male però su dieci personaggi non possono essere dieci personaggi che parlano così del sesso tutti uguali così ma fammi un personaggio così come Rick non farmene dieci qui sono dieci personaggi in un party e sono tutti uguali tutti che fanno le battutine ciniche tutti che sono un po' edgy tutti che sono tutti aperti sessualmente cioè sono tutti uguali sempre il solito stereotipo è proprio il millennial writing che è il problema di cui soffrono tutta la maggior parte delle opere di intrattenimento di questo periodo tutti i personaggi sono uguali sono tutti cinici tutti edgy però tutto sommato sono anche bravi sono cattivi perché stai traditi ma in realtà non sono cattivi cioè sono insopportabili i personaggi non sono c'è che nella vita è così magari c'è gente io devo ancora giocarlo il 2 per adesso solo il primo completato diciamo che è una versione di Viniti che migliora molte cose e ne è semplificata ad esempio il sistema elementare è semplificato perché non è perché il sistema di dnd grazie a cazzo sì ecco la cosa lì siccome Rick e Morty hanno avuto successo dicono perché hanno avuto successo Rick e Morty perché c'è Rick facciamo tutti i personaggi come Rick o come Bojack Horse ma sono tutti così personaggi ma un conto è un personaggio unico in una serie un conto è che tutto il cast i personaggi sa così diventano insopportabili diventano tutte queste cazzo di battutine fuori luogo veramente e fra dieci anni noi guarderemo Baldusche 3 che per carità da un punto di vista del gameplay da un punto di vista dell'innovazione della pulizia anche tecnica niente da dire chapeau però da un punto di vista della scrittura veramente ragazzi mi sono abbombato i coglioni è chiaro che se nella tua vita non hai mai letto il libro di vita tua giocare Baldusche 3 ti sembra di avere ma già Harry Potter secondo me è superiore come scrittura a Baldusche 3 cioè veramente no secondo me non lo so e anche poi questo è un problema mio però quando giocavo tutta l'altra che giocavo a Baldusche 3 dicevo ma perché non ci sto giocando con i miei amici a D&D dal vivo che è molto più divertente siamo molto più liberi possiamo sparare più stronzate che poi la cosa divertente di di D&D è giocare con un gruppo comunque si è affiatato mai con gli sconosciuti e fare tutte quelle battute che non faresti mai con delle persone sconosciute toccare tutti quei tasti che tu con i tuoi amici puoi toccare senza offendere nessuno e quindi veramente allora cercavo di produrre un po' quella quell'atmosfera no facendo tutti i personaggi un po' cazzoni divertenti però non torno perché non sono i tuoi amici e tutte le volte che avviavo Baldusche 3 dicevo ma io vorrei giocare a D&D con i miei amici con un'intelligenza artificiale cavolo è proprio un palliativo perché non amici Baldusche 3 per giocare a D&D e quindi no perché poi noi abbiamo giocato a D&D abbiamo giocato tantissime cose ci si fa un sacco di gag ci si diverte come dei matti però è tanto non si gioca perché purtroppo siamo invecchiati purtroppo c'è chi si è sposato e quindi la vita porta da altre parti quindi non lo so cioè se dovessi scegliere di giocare a Baldusche 3 piuttosto chiamare i miei amici a D&D perché tutti i giochi per cui c'è un grande hype sono sempre giochi dell'anno ma in realtà Baldusche 3 c'era così tanto hype c'era molto più hype per Tier 2 Kingdom no Mad Basic no c'era molto più hype per Tier 2 Kingdom che non ha vinto quasi un cazzo mi sembra o sbaglio Tier 2 Kingdom secondo me è meglio di Baldusche 3 andiamo avanti a proposito Tier 2 Kingdom delusione dell'anno Zelda Tears of the Kingdom delusione dell'anno io aspettavo questo gioco come se fosse la venuta di Gesù Cristo sceso in terra perché Breath of the Wild è il mio gioco approfitto di sempre insieme a Shadow of the Colossus tutte le volte c'è da pensarci qual è il migliore ma Breath of the Wild funziona su tantissime cose tutte le cose per cui non funziona Breath of the Wild ovvero il combattimento e la ruota degli oggetti il cibo la cucina in Tier 2 Kingdom non è stata assolutamente migliorata anzi secondo me il combattimento l'usura delle armi o quella cazzata di dover unire quindi aprire un ulteriore menu per unire le armi alla roba che trovavi per terra l'ha peggiorato l'ha reso più legnoso più lento quindi l'ha peggiorato e poi qual era la vera figaggine di Breath of the Wild aspetto che qualcuno in chat mi risponda poi stiamo avanti vabbè non risponde nessuno dai quella è la figata di Breath of the Wild vabbè ma anche in Tier 2 Kingdom si è più o meno libero vabbè dai il totalitarismo no la cosa figa di Breath of the Wild era il movimento era il movimento era la scalata e in Tier 2 Kingdom il movimento viene meno perché appunto è questa cosa è un accidente a te tiz il totalitarismo che tra l'altro c'è anche qui il totalitarismo perché Ganon è un po' il duce è un po' il duce scemo ma è il duce allora che stavamo dicendo la figata di Breath of the Wild era il movimento nel momento in cui te mi metti tutte queste opzioni di movimento ovvero tutti gli oggetti tutti i veicoli che posso creare tutta questa figata di movimento tutto questo level design costruito intorno a un movimento viene un po' meno anche perché se non so se avete fatto caso ma io giocando ho fatto molto caso perché in realtà l'ho giocato molto Tier 2 Kingdom perché ora l'ho messo come delusione dell'anno però c'è magari ogni anno uscisse un Bardus Gate 3 e un Tier 2 Kingdom parliamoci chiaro è per fare un po' leggi per parlare un po' delle problematicità di alcune cose alcune cose no allora dicevo fateci caso in Tier 2 Kingdom il movimento viene meno anche per alcuni altri fattori quando te devi scala una montagna ci sono molte più insegnature molte più possibilità per arrivare in quella montagna un po' perché c'hai tutti i veicoli un po' perché hanno messo più insegnature per poter usare il come si chiama quel potere che ti fa passare attraverso la roccia e c'è un soffitto e il soffitto sbucca da un'altra parte ecco quel potere lì che non mi ricordo non si chiama nemmeno non si chiama reverto oddio non mi ricordo un cazzo ecco quel potere lì non 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 ti dà tutta questa pianificazione del movimento anche perché in Breath of the Wild il movimento era libero ti potevi andare dove volevi ma dovevi essere molto pianificato se ti volevi arrivare in cima alla montagna te la dovevi pianificare dovevi preparare le posioni dovevi pensare come raggiungi dovevi pensare se la tua stamina ti bastava dovevi capire se c'erano degli appigli in cui potevi riposarti per riguadagnare la stamina invece con gli oggetti con i poteri che sono molto più forti rispetto a quelli di Breath of the Wild questa cosa viene meno e tutte le novità tra l'altro di Zero State Kingdom non mi sono piaciute il sottosuolo è orrendo è orrendo non mi è piaciuto i dungeon nonostante forse siano più classici quindi la gente sia più contento con questi dungeon mi sono piaciute molto più le bestie perché erano molto più ciò pagliaio perché erano molto più originali diciamo erano molto più simili anche a Shadow of the Colossus quindi per il mio imprinting mi piacevano di più e poi erano molto più uniche allora all'interno dovevi usare i poteri per spostare i massi far muovere queste bestie per esempio l'acqua era bellissimo l'elefante potevi far muovere il come si dice il a proposito per muovere l'acqua i mulini era molto più figo allora lego Satori un attimo è sempre assolutamente compromesso tra il limite del gioco e la libertà del giocatore non sempre dare più strumenti e chi gioca ha un vantaggio per il gioco esatto se si parla a carico sul tubo non ti preoccupare anzi la carico subito appena finito si è vero Satori è completamente ragione e secondo me Tier of the Kingdom è un gioco molto più facile e che viene molto più in contro del giocatore perché Breath of the Wild nella sua libertà totale nella sua avventura totalizzante diciamo era molto più punitivo ed era anche molto più di nicchia infatti Breath of the Wild tantissimi hanno odiato Tier of the Kingdom se ci fate caso è un gioco che ha contato più persone tranne me perché sono stronzo come al solito perché perdeva tutta l'unicità secondo me tipica di Breath of the Wild e tutto quella non lo so cioè è anche difficile da spiegare perché sembra veramente un coglione anche i sacrali di Breath of the Wild che erano più criticati a me sembravano più difficili avevano delle soluzioni più cervellotiche per arrivare in fondo anche quelli che usavi la Switch per poter per muovere i piani all'interno del dei sacrali erano molto difficili dovevi pensarci di più invece in Tier of the Kingdom sembrano sempre tutti dei tutorial tutto è un tutorial poi hai messo troppe cose all'interno del gioco tra cui le batterie e le batterie non funzionano perché non ti permettono di sperimentare con i veicoli se te mi dai veicoli e mi vuoi rendere questo gioco molto sperimentale molto mi vuoi dare un approccio molto e fai il cazzo che ti pare divertiti sperimenta però allo stesso tempo mi metti le batterie che mi limitano nella mia sperimentazione mi sembra proprio una cosa veramente inutile e poi tra l'altro siccome Tier of the Kingdom riprende anche un po' l'anima di Breath of the Wild nonostante sono completamente diversi e quelli che dicono che Tier of the Kingdom è un DLC di Breath of the Wild non capisci veramente un cazzo ma di niente siccome le batterie sono fondamentali però non ti vengono date all'inizio non ti vengono spiegate all'inizio sono nella prima città e ci devi arrivare per tuo conto se te le perdi ti fai tutto il gioco se te le ignori fai tutto il gioco che le cazzo di batterie piccolissime diventano da vedere poi su una guida suonite come prendere di più ma siccome è una cosa così complessa non devi dare solito all'inizio se all'inizio ne hai fatto fare la prova dei poteri come dicevano che erano dei più grandi tutorial Nintendo Mestre dei tutorial che ti spiega come fare che due palle all'inizio di Breath of the Kingdom invece Breath of the Wild era molto meglio se mi dai quel tutorial lì mi devi dare anche il tutorial delle batterie perché se me lo perdo è un casino poi non sperimento di più e poi un'altra cosa siccome i veicoli sono come possiamo dire non sono necessari per andare avanti nel gioco te puoi fare tutto il gioco senza fare un veicolo non va bene te devi mettere delle imposizioni per usarli se no un giocatore come me che non ha voglia di sperimentare non lo fa e se tutta la grandiosità di questo gioco la sua sperimentazione la sua voglia di scoperta non c'è è sti cazzi ragazzi cioè mi sta confondendo la musica dicevo se non è obbligatorio usare veicoli in certi momenti se non è obbligatorio se te non mi dai un incentivo usare veicoli diciamo perché li dovrei usare per sperimentare per sperimentare così voglio giocare a Minecraft capito cosa voglio dire se io devo giocare a T-Rose of the Kingdom e avere tutta questa bellezza di fare i come si chiamano i i veicoli sperimentare queste cose pazze ti devi dare la possibilità di mettere dei vincoli per poterlo fare nel gioco come Nuts and Bolts di come si chiamava di Benji e Kazuyo che è stato tantissimo preso per il culo di T-Rose of the Kingdom perché dicevano che erano ripoff di Nuts and Bolts ma anche lì come al solito è la gente che parla senza sapere di quello che sta parlando ma sta andando la musica o no perché io mi sono sollevato le cuffie non la sento più oh aspetta mi sembra che non sta è morto ok è morto va bene è morta la musica e ce la teniamo morta e infatti la chiudiamo ok e quindi ragazzi tutto sommato a Maiters of the Kingdom mi ha deluso un po' si si è bloccata sentiva si lo sentivo anch'io aspetta prima di entrare sul sito vedete se parte no è morto il sito interno al server error prima un po' vabbè quando io dicevo che mi ci hanno preso per il culo tanto anche che Beth the Wild si sono stonatissimo nonostante di fatto catechismo abbia cantato in chiesa tantissimo l'abbia invento nonostante io dicevo sempre che Beth the Wild non era un gioco per tutti perché non era un gioco che aveva tutti perché era molto coraggioso da parte di Nintendo invece Tears of the Kingdom è più un gioco per tutti un gioco che arriva a tutti un gioco facilone un gioco che vuole non stare antipatico vuole sempre essere simpatico al giocatore non vuole mai metterle delle difficoltà davanti e secondo me in questo ha fallito io mi aspettavo appunto un un Breath of the Wild 2 invece è proprio Tears of the Kingdom è proprio un altro gioco e non mi è piaciuto non mi è piaciuto nonostante la trama sia migliore nonostante basta nonostante alcuni nemici siano i nemici siano più variegati ma come al solito non è che grandezza cose in più sia una cosa migliore Breath of the Wild ha un senso dell'esplorazione un senso dell'avventura molto più molto più ampio di questo di questo di Kingdom che tra l'altro quel senso di avventura e di esplorazione l'ho avuto con le isole nel cielo ma le isole nel cielo sono piccolissime sono una parte vabbè le isole nel cielo sono una parte minore del gioco eppure nel trailer sembrava che fosse la maggior parte del gioco invece le isole nel cielo sono una cosa che mi sono ecco la cosa migliore di Tierra o Seguito mi sono le isole nel cielo e proprio il pensare come arrivai tra un'isola e l'altra e lì appunto ti obbligano a usare i veicoli a pensarci a modo e quella parte mi è piaciuta tantissimo solo che non è la parte fondamentale del gioco perché la parte fondamentale del gioco è come al solito di rule e tantissimo il sottosuolo che il sottosuolo l'avrei levato l'avrei tagliato veramente una parte inutile veramente una parte pallosa eccetera eccetera sì anche la trama tutti dicono che è migliore però tutto sommato forse forse la trama era meglio in in Breath of the Wild perché non si prendeva mai sul serio era una stronzata ah Mad Basing sta battuta quindi andiamo avanti ok ok arriviamo nella top 3 arriviamo nella top 3 e poi abbiamo finito incredibile arriviamo nella top 3 il primo della top 3 è appunto Super Mario Bros Wonder questo gioco ragazzi questo gioco sembra che Nintendo abbia voluto fare un un gioco come possiamo dire un gioco di Mario 3D in 2D perché il senso di scopersi il senso appunto di Wonder costante all'interno di questo platform Nintendo è veramente incredibile ogni cosa è diversa poi non stanca mai il come si può dire il i fiori meraviglia più uno pensa ma saranno una gag no che si ripeterà l'infinito no ogni fiore meraviglia all'interno del livello è sempre una novità non ce n'è uno che si ripete rispetto a quell'altro c'è sempre una cosa nuova questi veramente sono fumati la peggio è l'SD per portare una cosa del genere poi funziona tutto una cosa che non funziona secondo me di Super Mario Wonder è appunto il fatto che i livelli sono troppo piccoli quando esci da un livello ti senti come dire ne vorrei aver avuto di più sono troppo piccoli sono troppo veloci e questo ricorda forse un po' sì i boss non mi sono piaciuti nemmeno a me anche perché sono tutti uguali cambiano un po' le meccaniche dello spostamento del terreno comunque sia c'è veramente qui il difetto sono appunto i boss come dice Mad Basic in chat ma forse anche da un punto di vista potremmo dire che il fatto che i livelli siano molto corti ma a livello molto corto secondo me è perché hanno voluto riprendere un po' Super Mario World che anche lì i livelli erano molto corti però erano molto stratificati e potete uscire da alcune parti invece che da altri è uguale anche questo Mario Wonder in alcune parti devi andare a cercare gli segreti è veramente enorme questo gioco e se ne è parlato anche troppo poco e come al solito lo mettono è TGA lo mettono nella categoria per bambini e per famiglia non si sa per chi il gioco in Nintendo devono essere sempre le categorie per bambini e per famiglie come se una cosa per bambini o per famiglia non possa essere meglio di un Baldur's Gate 3 per dire questo gioco è molto meglio di Baldur's Gate 3 ha molte più novità ha molto più sense of wonder solo è come la solita cosa se giochi a Super Mario se è un bambino se giochi a Badur's Gate 3 come se sono le battute sul sesso è come quella scena dell'orso che viene lui che incula l'orso si fa inculare dall'orso l'ho ascoltato non lo ricordo e tutti a citare quella scena lì ma io penso che non esista una cosa più cringe di quella cosa lì è veramente il top del cringe invece di Super Mario World bello 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 perché c'è tantissime idee bello perché il platforming come lo fanno Nintendo non lo fa nessun altro anche i Sonic non l'ho mai capito non mi sono mai piaciuti e ho provato anche Sonic Mania come mi ha suggerito Waze ma l'ho droppato dopo un'ora l'ho fatto refound su Steam e non mi piace non l'ho capito invece Super Mario Bros Wonder Super Mario Bros in generale hanno il ritmo perfetto sono hanno un ritmo perfetto e hanno un platforming perfetto l'unica soluzione per giocare Badur's Gate 3 senza cringe è essere solito dei personaggi cringe appena li incontri io avevo pensato di fare una run avevo pensato a fare una run tiz non ironicamente su Badur's Gate 3 cattivo in cui ammazzo tutti perché Mario avrà i baffi questo non lo capita run no cringe tra l'altro c'è un personaggio c'è una via che può fare il personaggio cattivo che è un monaco mi sembra monaco dragoni di albino comunque guarda ne ho fatto meno un'idea non lo potrei fa non lo potrei fa su Twitch run no cringe di Badur's Gate 3 in cui ammazzo tutti i personaggi che incontri però come fai? devi fare un personaggio veramente forte il druido o il chierico non lo so si forse il druido no albino albino forse forse se fai il druido perché può fare un po' tutto un po' di stealth un po' di tutto solo che è difficile diventa tosta da solo boh vabbè comunque sia Super Mario Bros Wonder è veramente passato passato però in gioco per i bambini no io penso che i giapponesi queste cose non gli è mai fregato un cazzo e mai non gli è fregata un cazzo la cosa bella del Giappone e anche la cosa per tutte diciamoci la verità è che sono completamente isolati su queste tematiche cioè non gli è fregata un cazzo cazzo cioè Dark Urge Dark Urge bravo Dark Urge è quello lì quindi insomma al Giappone queste cose lcbtq plus magari metteranno il presagio nero magari metteranno il presagio femminile però non gli è fregata un cazzo i giapponesi ed è una cosa bella e anche una cosa brutta perché non vanno poi a fare tutte le puttanate di intrattenimento come se ne parlava prima davanti il secondo gioco di questa top 3 è Cene di Icos è un gioco che ho portato tutto su Twitch mi sono divertito grazie a Mad Basic che mi ha aiutato perché se no non so se l'avrei finito da solo perché sono una persona che ha pochissima pazienza e ci sono alcune cose di Cene di Icos che non sono spiegate molto bene ci sono alcune cose che ho saltato perché ho fretta di leggere ho fretta di andare avanti quindi c'è Mad Basic c'era Mad Basic in chat che mi ha aiutato a capire e comprendere alcune cose quindi grazie mi ha ricordato anche alcune cose di trama che mi erano completamente scordato soprattutto sul finale quando affronti Kyle gli avessi esplorato tutto il gioco scusate cancellate questa cosa che ho appena detto su Kyle vabbè comunque Cene di Icos avete presente Sea of Stars l'opposto funziona tutto l'unica cosa che non mi piace tanto di Cene di Icos è come si può dire la pixel art che è molto meglio quella di Sea of Stars però in Cene di Icos funziona tutto il resto funziona il combattimento funziona ma a parte che te azite che mi hai guardato a volte ma guardo la seconda parte quindi un po' di spoiler sei già beccati funziona tutto funziona il combattimento funziona la trama la trama inizia essendo sempre può sembrare essere anzi sembra essere la solita puttanata JRPG ovvero il cattivo che devi sconfiggere che devi inità ma invece andando avanti fa un secondo me un bel discorso sul come si può dire sul sull'innatismo che è una cosa molto importante nel giorno d'oggi fa un bel discorso sull'innatismo infatti dice diciamo che la morale del gioco è te non sei quello che sei cioè non sei i geni con cui sei nato ma sei quello che fai durante la tua vita ovvero le azioni che fai quello che dici come ti comporti non sei non è che siccome nasci nero come potrebbe essere nel 1800 nasci schiavo ecco non è che siccome nasci rumeno nasci ladro non è che siccome nasci italiano nasci mafioso non è che siccome nasci maschio nasci stupratore non è che siccome nasci donna nasci stupida cioè fa un bel discorso questa cosa qui fa un bel discorso questa cosa qui è molto bello tra l'altro il finale è veramente cioè il finale che è una delle cose infatti se ci fai caso non ho citato Napoletani si scherza amici Napoletani la frittatina è molto buona vi perdono tutti i peccati che avete fatto quella cosa lì tra l'altro il finale che è una delle cose più criticate del gioco che ho trovato su internet e secondo me la cosa migliore del gioco il finale è bellissimo purtroppo che lascia due o tre questioni aperte ma perché so che sta uscendo un due e c'è un personaggio che ho amato alla follia Batrazza un personaggio meraviglioso che viene lasciato un pochino aperto Batrazza è meglio in realtà quindi penso che il secondo gioco sia su di loro spero penso credo non lo so Mad Basic te lo sai comunque ce ne dico se è veramente un gioco che mi ha stupito perché nelle prime ore di gioco mi sta veramente ammorbando le palle diciamo la verità perché è molto lento a partire non decolla mai per fare un meme di Wesa non decolla mai decolla nel momento stesso in cui è uscito dalla città nel momento stesso in cui affronti il primo boss che però non l'affronti realmente perché arriva Rafa e l'affrontano loro no non lo giocherà mai per i fatti suoi anche se questo forse probabilmente è un gioco perfetto per Steam Deck o Switch comunque comunque si è un gioco fighissimo un gioco che ha delle problematicità che ho scritto una recensione enorme su Silicon Arcade andate a leggere la lì o sennò ci sono addirittura due video sul mio canale dedicato a Cine di Icos che per me è un gioco veramente quando cioè quando io io disprezzo un genere io disprezzo JRPG disprezzo Metroidvania però ogni tanto esce questo gioco che è tipo Cine di Icos o come appunto possono essere Pseudo Regalia e Metroid Prime che abbiamo citato prima che mi fanno dire vedi sei un coglione perché non è che il genere fa il gioco è il gioco nonostante il genere può essere anche bello o per via del genere non c'è bisogno di distinguere queste due cose quindi nonostante io ho DG RPG come per esempio io ho trovato Dios Persona 5 anche se ci ho fatto 129 ore ma a un certo punto 129 ore non ero ancora arrivato alla fine del gioco ho detto ma chi cazzo me lo fa fare di andare avanti e l'ho staccato Cine di Icos non l'ho visto nemmeno fino a nulla ma veramente ammorbato il coglione anche perché a differenza di Cine di Icos in Persona 5 secondo me il combattente non funziona invece qui funziona tantissimo funzionano le classi funzionano il sistema di avanzamento dei personaggi è veramente figo e ora arriviamo con il gioco più bello che ho giocato quest'anno probabilmente non probabilmente è anche uno dei giochi più belli che abbia mai giocato e ora ve lo faccio vedere Otherwise Otherwise è un gioco vabbè l'importante è che lo faccia a modo più tempo ci vuole meglio è se no si fa come Starfield si fa come Stalker 2 che oppure che venga la merda come Final Fantasy XVI i giochi hanno tempo bisogna Cyberpunk nel 1977 bisogna dare tempo ai giochi allora Otherwise magari ragazzi probabilmente essendo questa la chat ovvero anche parte del gruppo Telegram saprete che Otherwise è un gioco con cui molti di noi sono fissati e anche mi sono fissati io la colonna sonora l'ascolto in continuazione ce l'ho sempre fissa in macchina Otherwise è un gioco meraviglioso uno dei giochi più belli di sempre insieme a Dark Souls Breath of the Wild Shadow of the Colossus Bloodborne è veramente così l'ascolto fissati e l'ascolto fissati la colonna sonora soprattutto quella 14 14 billions e l'ascolto in macchina tutte le volte vengono le lacrime e la mia ragazza che non l'ha mai giocato e l'ascolto ma la metto in macchina e va a caso con Spotify e YouTube Premium le musiche in macchina e cambia sempre la sound che lei a memoria le musichette di Anthony Wild e non vuole che le cambiano perché le cambiano anche a lei ma sì ma Creamer ma te non hai idea di che il gioco meraviglioso è questo questo è un gioco che parla della morte come fine di tutto ma come la morte bellissima la morte bella e terribile allo stesso tempo è un gioco che parla dell'impresa scientifica è un gioco che parla del fatto che noi aiutiamo come comunità nonostante l'esplorazione spaziale possa essere anche solitaria appunto come quella del personaggio in questo gioco beh sempre verso qualcosa sempre verso una musica per non spoilerare troppo il gioco verso sempre questa musica questa musica che attira l'arte che attira che muove veramente il videogiocatore non solo l'arte ma anche il senso di scoperta il senso della scienza il senso di far parte di un'impresa più grande di te veramente è un gioco meraviglioso è un gioco che parla anche dell'interpretazione dell'interprete che il mondo intorno a noi non ha senso senza un interprete no? Senso l'umanità il mondo è insensato perché effettivamente un senso non è che è insensato è insensolato è insensato nel senso che non ha un senso non ha una morale non ha un senso logico il mondo perché siamo noi umani in questo caso gli alieni a dare il senso a questo mondo e quindi se tocca a te dare senso alle cose senso all'universo ma non lo so l'ho trovata scritto affanculo ma è diversi l'ho trovata così su google immagine ho scritto otherwise ho trovato questa qui forse questa è all'inizio perché lo comprai quando era sempre negli access solo su epic lo giocai un po' e l'abbandonai l'ho giocato l'anno scorso che tra l'altro lo comprai perché lo vedi giocare non ironicamente in live da Fenrir Maloki l'ex ragazza di Sabaku no Maiku e mi aveva molto ispirato lo comprai lo giocai un po' poi era estate io purtroppo le estate posso giocare veramente poco l'abbandonai lo lasciai lì e non lo giocai più poi in chat da Uesa sul gruppo Telegram cito che non ho fatto che parlare di sto giocazzo di gioco ho detto fatemelo provare sto gioco l'ho provato il gioco meraviglioso bellissimo e purtroppo non ho ancora provato il DLC perché non è che mi stesse piacendo l'ho provato ma non mi stava piacendo molto come gioco originale che lo giocherò poi ovviamente però è un gioco che parla dell'importanza dell'interprete non solo nell'interpretazione del mondo ma l'interpretazione anche dell'arte di tutto e poi c'è il messaggio finale è che la vita è letteralmente non ironicamente gli amici e le esperienze che ci siamo fatti durante la nostra vita veramente un gioco Outer Wilds è un gioco incredibile con la musica che ti guida la musica intesa anche come arte il senso di scoperta che ti guida il senso di scienza il senso questo gioco è incredibile io chi l'ha giocato capisce capisce cosa voglio dire non voglio fare troppi spoiler perché per parlare di Outer Wilds a modo bisognerebbe fare un sacco di spoiler c'è il mio video appunto su youtube c'è anche un articolo sul mio substech se volete leggere appunto i più spoiler però è quel gioco che poi unisce tutte quelle cose fantastiche quando ero bambino volevo fare l'archeologo perché avevo visto appunto Indiana Jones era fissato e poi anche allo stesso modo un po' Jurassic Park il personaggio di Jurassic Park aveva un po' l'idea dell'archeologo andava nei deserti a scavare a cercare le vecchie osse dei dinosauri tutte queste cose qui e allo stesso tempo ha anche il senso di superazione spaziale che appunto come me io sono nato nell'89 come ragazzi della mia generazione siamo cresciuti con Indiana Jones Jurassic Park e Star Wars sì 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 perché allora ecco perché la sua poetica e anche il suo gameplay anche tutta la luna quantica le pietre quantiche ha senso se lo giochi cioè è un gioco che fa della sua poetica al suo gameplay è uno di quei giochi rari che ce ne sono veramente pochi ma per esempio Dark Souls Breath of the Wild Shadow of the Colossus per citare quelli più famosi quelli che mi piacciono di più a me fanno del gameplay la loro poetica del senso proprio senza un controller in mano te non riesci a capire quei giochi magari in Dark Souls in Shadow of the Colossus riesci anche a vedere la bellezza di Honor Londo a vedere la bellezza dei Colossi però anche Breath of the Wild ha anche degli squarci in antemani allo stesso modo anche Outer Wilds comunque quando ti alzi per la volta con la nave e vedi lo spazio immenso intorno a te fa un certo effetto però sono quei giochi che capisci solo se prendi il controller in mano sono quei giochi che puoi capire solo se sei un giocatore perché a volte perché il videogioco è difficile da spiegare anche agli altri da far capire ai boomer come si dice tra virgolette perché se non li giochi i giochi migliori non li puoi capire perché la loro poetica è appunto giocarli se non li giochi non comprendi non è come nel stesso modo alcun film se non lo vedi come fai a spiegarlo però puoi parlare un po' della trama però se è un film molto basato sulle scene sulla regia sulle trovate registiche sul montaggio così come fai lì a spiegarlo niente lo devi vedere nel stesso modo i giochi vanno giocati ci sono alcuni giochi che puoi anche non giocarli e poi guardare nel basso tipo Silent Hill 2 puoi anche evitare di giocare se guardi un gameplay lo capisci comunque sia puoi andare a parlare cosa vuole dire Otherwise e altri Dark Souls che la difficoltà è la sua poetica l'arrancare la lentezza sono la sua poetica che è guardare la luna quantica e non guardarla ecco se non la guardi se non sapete che i giochi non la stai guardando o la stai guardando lo capisci meglio cosa vuole dire questo gioco qui comunque sia questi erano i giochi ora stacco e prima di staccare proprio faccio una domanda qual è il vostro qual è stato il vostro gioco dell'anno 2023 ce l'avrete avuto è un gioco che vi è giocato in questo 2023 che vi è piaciuto tantissimo tra l'altro ci sto pensando oggi ma nel 2024 cosa esce? perché stavo guardando un po' cosa poteva uscire in questo 2024 ecco ho tornato la musica ma non mi viene in mente niente sì sì Otherwise ovviamente è finita ho tornato anche la musica è tornata Kingdom Hearts Unicorn ora vado a vedere se è una cazzata vado e su Steam perché non sono sicuro di poterlo Unicorn Overlord Unicorn Overlord non lo trovo nemmeno Unicorn Overlord aspetta no no è un gioco è un gioco vero Unicorn Overlord è un gioco di ruolo tattico però si è sviluppato da Vanilla Ver e pubblicato PlayStation 4 e PlayStation 5 Nintendo Switch ah esce l'8 marzo 2024 ma cos'è è un JRPG sì è un JRPG ma è un JRPG simile a High Fire Emblem vedo sì comunque sembra figo è bello anche l'art style in realtà è figo l'art style Ciao The Colossus è un gioco meraviglioso Satori è giocato la versione PS2 o il remake comunque ragazzi grazie di essere passati volevo arrivare alle 7 file ride a Wesa ma non ho più voglia di stare live anche perché non ho più voce e volevo preparare scena quindi grazie per essere passati è un gioco migliore dell'anno in 3 dovrebbe essere C2 con le singole abitare sembrava che fosse così ci vediamo al prossimo live che non so quando è perché è proprio in ferie e comunque figo figo Other Wilds Street Fighter 6 il miglior gioco dell'anno il gioco più sopravvalutato Bandus Gate 3 gioco di illusione Tiers of the Kingdom perché non è quello che mi aspettavo magari c'è gente che mi ha piaciuto più di Breath of the Wild io mi aspettavo Breath of the Wild 2 ma non no il gioco peggiore dell'anno assolutamente Starfield il gioco più mediocre che abbiamo giocato in vita mia ma non solo dell'anno sia lo Stars recuperate Pizza Tower recuperate poi Impi dato che avete tutti Netflix credo quindi andate su Netflix scaricatevi poi Impi e giocatelo subito ora immediatamente ciao a tutti ragazzi e alla prossima grazie 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 di essere passati ciao 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 ciao